Ciao, sono Dario per Alternativa Linux. Nemo, il file manager di Linux Mint Cinnamon. Mostriamo Linux Mint 21 a chi non lo conosce e vediamo cose semplici per il mio lettore principiante. Trucchi per la selezione, copia e spostamento di cartelle e file e menu estesi. Le più recenti nuove funzioni e le estensioni installabili per integrarne altre. Infine le azioni, un arsenale di funzioni da assegnare al menu che si apre con il pulsante destro. Scarica azioni create da me e per il mio utente più smaliziato informazioni su dove trovarne altre o su come creare le proprie azioni per Nemo. Il file manager, il centro di interazione con la struttura del file system di Linux. L'accesso diretto a tutte le risorse, le periferiche connesse, cartelle e file integrati nel sistema. Ogni distribuzione Linux ne ha uno e anche altri sistemi operativi, ovviamente. In ambiente GNU Linux è spesso legato all'ambiente desktop adottato. Quello di Linux Mint edizione Cinnamon è uno strumento molto leggero ma potentissimo ed è oggetto di continua attenzione e miglioramenti da parte del team di Linux Mint. Alcune caratteristiche le ritrovi simili in altri affidabili file manager di altri ambienti desktop GNU Linux, oltre che in sistemi operativi commerciali. Faccio vedere Nemo perché Linux Mint è il mio sistema operativo e anche quello di tanti utenti che hanno già fatto ricorso alle informazioni che distribuisco qui e nel blog alternativa linux.it e ci si trovano bene come me. Di Nemo ho già parlato fin dalla post-installazione di Linux Mint 20. Ne parlo dettagliatamente poi nel manuale d'uso di Linux Mint, nel blog, e anche nel mio nuovo prossimo e-book manuale d'uso di Linux Mint 21. Anche da computer si apre Nemo, in una finestra di riepilogo di hard disk ed altre periferiche di archiviazione, partizioni di hard disk, lettori DVD, lettori di schede, indipendentemente dal fatto se siano attualmente montate nel file system di Linux, cioè attivate ed accessibili. Come i file manager di altri ambienti desktop, Nautilus per Ubuntu, Tunar per Xubuntu e Linux Mint Xfce, tra tante altre, o Dolphin per il desktop plasma, Nemo, realizzato per l'ambiente Cinnamon, che deriva da quello nome tipico di Ubuntu, ha una barra del menu, in cui modificare la visualizzazione dei contenuti nel percorso attualmente visualizzato e di navigare nella cronologia di esplorazione. Una interessante opzione di Nemo è Visualizzare il quadro aggiuntivo. Consente di raddoppiare la vista nella finestra principale per visualizzare, fianco a fianco, il contenuto di cartelle differenti. Basta un clic in una delle due metà per attivare le operazioni nel percorso corrispondente. Risultano comodissime la copia o lo spostamento di file tra percorsi differenti, specie con la finestra a tutto schermo. Una volta attivati i menu contestuali estesi, si può cliccare con il pulsante destro su uno o più file selezionati e scegliere Copia in e Sposta in, indicando come destinazione l'altro riquadro. Queste due funzioni non sono infatti attive per impostazioni predefinita, ma puoi modificarle e attivarle dal menu di Nemo sotto Modifica, Preferenze, Menu Contestuali. Il riquadro aggiuntivo si attiva e disattiva anche con la pressione sul tasto F3 sulla tastiera. Visualizza file nascosti consente di attivare e disattivare la visualizzazione di cartelle e file di sistema normalmente non visibili. Puoi usare anche la combinazione di tasti CTRL-H. Vale la pena saperlo perché vi sono nascoste anche cartelle file di configurazione dei sistema e dei programmi installati e poi dopo ci servirà per inserire nuove azioni Nemo in un percorso nascosto. Mostran tre prime è attiva per impostazione predefinita. Nemo crea immagini di anteprime per documenti multimediali di vario genere. Qualora le prestazioni nel computer ne risentano nella consultazione di molti file, è possibile disattivarla per mostrare solo l'icona del tipo di file. Le opzioni per aumentare, diminuire e ripristinare la dimensione comportano uno zoom nella finestra principale al percorso corrente. Sono personalizzabili in modo differente per diversi percorsi perché Nemo ricorda le impostazioni per ciascuno di essi. Si può modificare lo zoom anche scorrendo la ruotella del mouse in combinazione con il tasto CTRL sulla tastiera. Nel manuale d'uso nel blog cito il riquadro laterale di Nemo. Può mostrare una serie di preferiti a cartelle di uso frequente come quelle nella propria home e a chiavette, hard disk o altri dispositivi connessi nella modalità mostra le risorse. È comodo anche perché si possono espellere i dispositivi connessi prima di rimuoverli fisicamente dalle porte USB. Oppure, in modalità vista ad albero, il riquadro laterale di Nemo ti fa sfogliare l'albero del contenuto dell'organizzazione dei file in Linux fino al percorso visualizzato nella parte centrale per spostarsi più facilmente tra cartelle e sottocartelle. Ora un altro trucco, per così dire. L'anteprima di file multimediali in Nemo è una caratteristica che non tutti conoscono. Seleziona un file d'immagine, un PDF, un testo, audio o video e premi spazio sulla tastiera. Si apre all'istante una finestra di anteprima che può essere scorsa con il mouse in caso di documenti e che presenta controlli multimediali per audio e video. L'anteprima si disattiva con una nuova pressione dello spazio. Un minuto per illustrare concetti che tu potresti trovare banali su selezione e multiselezione di file e cartelle ma che a me come sempre piace non dare per scontate. Selezione di tutti i file o cartelle nel percorso corrente. Si interviene con la combinazione di tasti CTRL-A oppure dalla barra del menu con Modifica seleziona tutto. Per effettuare una selezione di molteplici file o cartelle nel percorso corrente si può tracciare un rettangolo immaginario che li racchiuda. Con il clic premuto sposta il puntatore del mouse fino all'angolo opposto di un rettangolo. I contenuti presenti al suo interno sono automaticamente selezionati. Per selezionare più file o cartelle consecutivi in tutte le viste di Nemo clicca per selezionare il primo, mantieni premuto il tasto SHIFT o maiuscolo sulla tastiera e poi clicca l'ultimo file. Opprima l'ultimo e poi il primo. I due file o cartelle e tutti quelli tra di essi vengono selezionati. Per selezionare più file o cartelle non consecutivi clicca per selezionare il primo, mantieni premuto il tasto CTRL sulla tastiera e continua a cliccare file e cartelle ed aggiungerà la selezione. Il clic su un elemento già selezionato serve a deselezionarlo. Nemo consente anche l'inversione di file e cartelle selezionati. Mentre una selezione è attiva vai nel menu su Modifica, Inverti selezione. Opprima usa la combinazione di tasti CTRL più maiuscolo più I. Caratteristica apprezzata da sempre anche in Windows è quella della possibilità di accedere alla modifica del nome di un file o una cartella con due rapidi clic. In Nemo la funzione è prevista ma non è attiva per impostazione predefinita. Apri Nemo nel menu sotto Modifica, Preferenze, Comportamento e troverai l'opzione Clicca sul nome di un file due volte per rinominarlo. Qui è anche presente un'opzione che consente di tornare su di un livello nella navigazione con un doppio clic su una zona vuota della cartella. Per menu contestuale si intende quello che appare al clic del pulsante destro del mouse, sia con uno o più file e cartelle selezionati, sia in uno spazio vuoto della finestra principale di Nemo e senza alcuna selezione. Il menu contestuale che appare in assenza di selezioni è minimo. Puoi creare nuove cartelle e documenti, aprire quella posizione nel file system Linux con il terminale o in Nemo con privilegi di root necessari nei percorsi di sistema protetti e incollare una selezione precedentemente copiata. Quando il menu contestuale viene aperto dopo la selezione di uno o più file, Nemo presenta opzioni specifiche per la gestione di tali tipo di file insieme a tante altre. Anche con una o più cartelle selezionate, il menu contestuale mostra opzioni specifiche per l'apertura in una nuova scheda o differente finestra di Nemo, quelle di taglia, copia e incolla, lo spostamento nel cestino o l'eliminazione immediata, oltre alla possibilità di creare da essa un archivio compresso o impostare opzioni per la condivisione in rete locale. Per semplificare l'identificazione di cartelle di uso frequente, il menu contestuale aperto sulla selezione di una cartella mostra anche Porta in cima e Aggiungi ai preferiti. Se impostate, entrambe sottraggono la cartella, l'ordinamento previstono e la pongono in cima ai contenuti. Un'ultima opzione per le cartelle consente di assegnare loro un colore personalizzato tra diversi disponibili. L'effetto si perde se cambi spesso tema di colore in Cinnamon. Diverse caratteristiche dei menu contestuali sono personalizzabili. Lo vedremo più avanti a proposito delle preferenze di Nemo. Con l'edizione 5 di Cinnamon rilasciata con Mint 20.2, come accennato, il file manager Nemo guadagna la funzione che consente ricerche di termini presenti nei testi all'interno di file testuali e non solo nel nome. Ad esempio, ho recuperato un dato importante in un messaggio email contenuto in un backup di posta elettronica in formato Unbox. Ho ritrovato un documento Word salvato solo in un file zip insieme ad altri grazie ad una parola presente nel documento ma non nel nome del file. Questo comporta la capacità di poter reperire ad esempio file in base a parole usate in documenti di testo, Word, Excel o PDF, anche se inclusi in un file zip, ISO o altro tipo di file. È anche possibile rintracciare il testo di un'email da un backup di posta in formato Unbox, ad esempio. Una potentissima funzione in grado di farti recuperare documenti che non avresti altro modo per ritrovare. Da giugno 2021 Nemo consente anche ricerche tramite espressioni regolari. Formule complesse che consentono una ricerca molto mirata di dati. Si tratta un po' di una integrazione di talune e funzioni del comando grep in versione grafica. Da Linux Mint 20.2 una nuova funzione è stata introdotta in Nemo. È raggiungibile anche tramite apposita app dal menu. Balki, tradotto in rinominatore di file, è uno strumento per la rinomina in serie di file. Seleziona più file in Nemo e premi F2 sulla tastiera o clicca con il pulsante destro per accedere alla finestra di rinomina. Puoi rimuovere o sostituire una parte del nome o un preciso numero di caratteri dal nome di più file. Aggiungere al nome un finale o un inizio di nome che sia comune a tutti. Oppure, se vuoi, attribuire un nome coerente ed una numerazione progressiva a molteplici file dai nomi più svariati. Seleziona l'opzione Sostituisci. Indica un asterisco nel campo Trova e nel campo Sostituisci indica un nuovo nome nella forma File% n minuscolo o in quella File% 00 n minuscolo per inserire zeri prima del numero se necessario. Balki mostra un'anteprima dei nuovi nomi per verificare il risultato prima di applicare effettivamente la rinomina. Per impostazioni predefinite e salvo diverse indicazioni non viene modificato il tipo di file né l'eventuale estensione. Non parliamo delle estensioni del desktop Cinnamon. Qui parlo di quelle specifiche del file manager Nemo. Esso può integrare funzioni aggiuntive rispetto a quelle predefinite. Alcune di esse sono già attive e configurate. Scopri le estensioni di Nemo già attive installate nel menu sotto Modifica – Estensioni. Vedrai che attiva l'estensione per file Roller consente a Nemo di mostrare se selezionati vari tipi di archivi nel menu che appare con il click del pulsante destro opzioni per gestire la creazione di archivi ZIP, RAR, GZIP, ISO e tanti altri. C'è Nemo Share che abilita le opzioni di condivisione in rete per singole cartelle o file selezionati. Segnalo anche Folder Color Switcher che consente di modificare il colore di specifiche cartelle. Per scoprire ulteriori interessanti estensioni del file manager dell'edizione Cinnamon di Linux Mint cerca il termine Nemo, trattino, nel gestore applicazioni. Tra queste mi sento di segnalare anzitutto quella per ridimensionare o ruotare molteplici immagini contemporaneamente. Nemo Image Converter. Se installata, quando siano selezionati uno o più file d'immagine Nemo mostrerà, tra le opzioni del menu contestuale che appare con il click del pulsante destro anche Ruota Immagini e Ridimensiona Immagini. Poi un'estensione permette l'integrazione di cartelle sincronizzate con Dropbox. Nemo Dropbox. Interessante anche quella per verificare le differenze nel testo tra versioni differenti e successive del medesimo file. Nemo Compare. Anche Nemo Media Columns può avere i suoi benefici se usato con cautela. Inserisce tra le informazioni visualizzabili nella modalità elenco anche dati EXIF e metadati di immagini e brani audio, file video, la durata e i tipi di codec. Ma rallentano notevolmente le prestazioni. Una cartella con decine di file video da diversi GB l'uno soffre se inserisco in elenco il dettaglio durata. Nemo può persino integrare una finestra di terminale sempre attiva nella parte superiore della finestra. Cerca e installa Nemo Terminal in gestore applicazioni. Nemo, nella modalità Mostra le risorse del riquadro lateralale, prevede scorciatoie di accesso per le cartelle personali di file multimediali di vario genere, che sono preimpostate come scorciatoie alle rispettive cartelle all'interno di home tuo utente. Ma puoi modificare il percorso dei segnalibri, almeno per richiamare in Nemo cartelle video, musica, immagini che non coincidono con quelle all'interno della tua home e che magari si trovano in un disco differente o una partizione condivisa con Windows. Con Nemo aperto, dal menu segnalibri vai su Modifica, Segnalibri, oppure usa la combinazione di tasti Ctrl-B. Selezionando le singole cartelle potrai modificarne il percorso. Ribadisco ancora una volta che questo tipo di intervento non modifica anche le cartelle documenti, musica, immagini, video predefinite di Linux per ogni utente all'interno della rispettiva home, ma solo i segnalibri di Nemo. Le azioni Nemo consentono di espandere con nuove funzioni le caratteristiche del menu contestuale già citato. Funzioni che possono operare in base a specifici tipi di file su cui intervenire. Stranamente per un utente che proviene da Windows, il menu contestuale di Nemo può sembrare meno dotato di quello di Windows, mancando ad esempio invia per email e altre utili funzioni cui si può essere stati in passato abituati. Facile. Ecco il link da cui scaricare una serie di azioni da me create ed utilizzate sempre in Linux Mint 20, poi 21. In pratica si tratta di brevi file di testo che vanno salvati con estensione .nemo underscore action nella cartella home, tuo nome, .local, share, Nemo, actions. Trovi la cartella local nella tua home solo se è attiva la visualizzazione dei file nascosti in Nemo. Da visualizza, mostra file nascosti o con control h. Più avanti illustro anche al mio lettore più esperto dove trovare ulteriori azioni per Nemo e fornisco brevi informazioni su come cominciare per creare proprie azioni. Nel file da scaricare con le mie azioni di Nemo troverai anche l'azione per diminuire il peso di uno o più file PDF con le azioni compressione PDF media e compressione PDF alta che riduce al minimo la dimensione del file. Trovi invia a dispositivo Bluetooth che supporta tipi di file personalizzabili per l'invio a smartphone, tablet o altro PC connesso via Bluetooth a Linux Mint. Trovi l'azione invia a stampante per inviare un file di testo o un documento direttamente alla stampante. Ci sono comandi per allegare singoli file audio o intere cartelle alla coda del riproduttore audio Audacious o il comando per trasformare un file in PDF. Se rientri nella categoria dei miei lettori che si trovano a proprio agio ad esplorare possibilità anche complesse e che coinvolgono la shell, ti fornisco anche altre informazioni sulle azioni di Nemo. Anzitutto la documentazione ufficiale sulle azioni che richiede la conoscenza dell'inglese ma è piuttosto breve. In breve dai un nome alla tua azione, gli assegni ogni icona, il tipo di contenuto a cui si applica, cartelle, un solo o più file selezionati, formati specifici e crei il tuo comando. Se il programma con cui vuoi gestire il file, come nel caso di Audacious, prevede l'uso della riga di comando, con MAN Audacious nel terminale scopri le opzioni per farlo. La tabella con la sintassi delle informazioni utilizzabili nei comandi, che sono preceduti da percentuale, ti farà rapidamente comprendere come funzionano, non meno che verificare come funzionano grazie alle mie azioni scaricabili. Inoltre ti segnalo un paio di progetti da cui partire perché potresti desiderare azioni e script per Nemo che sono già apprezzati da altri utenti. Verifica la documentazione, seleziona le singole azioni che ti interessa, provale e mettile nella cartella home, Tuonome.local.share.nemo.actions Con gli script di Nemo, evoluzione delle azioni, un utente esperto può creare i propri script shell e aggiungere funzioni anche complesse integrandole nel menu contestuale per certi tipi di file. Devi inserire gli script nella cartella home, Tuonome.local.share.nemo.scripts I link appena citati sono validi anche per le azioni di Nemo. Ce ne sono molti che contano sull'installazione anche di pacchetti aggiuntivi per una miriade di possibilità davvero anche esagerate. Abbiamo dato uno sguardo più attento all'ultima versione del file manager Nemo disponibile con l'ambiente Cinnamon di Linux Mint 21. Ti ricordo che se vuoi provare Cinnamon devi usare Linux Mint perché altrimenti rischi di installare una versione che risale ad anni fa. Quindi scopriresti come funzionava anni fa prima che fossi riscritto due volte. Anche per questa volta io ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato. Ti invito ad iscriverti al canale ed attivare le notifiche per conoscere la data di pubblicazione dei prossimi video. Ce ne sono diversi in programma. E ti rimando alla prossima occasione. Grazie per il tuo tempo. Ciao. Grazie a tutti.